E concludiamo con le notizie dal mondo non profit. Mercoledì 1 marzo alle ore 18.30 presso il centro civico di via Oglio 18 verrà presentato il film Un parco a porto di mare. La proiezione racconta il lavoro di Italia Nostra per la riqualificazione dell'area. Per maggiori informazioni e per prenotare il proprio posto mandate pure una mail all'indirizzo iris.bianchini-comune.milano.it